Pregnazione del campionato italiano a squadre femminili 2019, chiamiamo le tre squadre classificate. Medaglia di bronzo alla squadra Cividin con Sara Cividin, Aurelia Cattolva, Barbara Dessì, Laura Rapini, Cristiana Moncantini e Barbara Mettia. Seconda classificata, medaglia d'afflento, squadra Arturlo con Monica Gheno, Monica Furatti, Margherita Costa, Tonella Novo, Giovanna Piccioni e Elena Buscalla. Medaglia d'oro, squadra Santolini con Gianna Rigoni, Antonella Cagcese, Angela Di Piasio, Gabriella Olivieri, Francesca Pisciterri e Ilaria Saccavini. Pregnazione del campionato italiano a squadra Cividin, Aurelia Cattolva, Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri. Pregnazione del campionato italiano a squadra Cividin, Aurelia Cattolva, Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri. Pregnazione del campionato italiano a squadra Cividin, Aurelia Cattolva, Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri. Pregnazione del campionato italiano a squadra Cividin, Aurelia Cattolva, Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri e Francesca Pisciterri.